se hai ricevuto problemi riguardo al frostpunk 2 su xbox che non si avvia e ha problemi vai direttamente sulle nostre quindi se vai sulle opzioni vai su file cerchi così degli aggiornamenti da fare sul gioco quindi qua il preordine quindi puoi giocare prima dell'uscita proprio ufficiale del gioco e qua sopra puoi verificare e riparare il gioco di frostbunk 2 vai su sì e lo ripari lo ripare lo ripare più volte finché non si avvia il gioco parla così la verifica download e basta una volta fatto premi play per vedere poi vai direttamente sulle applicazioni del tuo sistema operativo quindi applicazioni installate scendi fino a giù vieni a trovare così il gioco frostbunk 2 vai direttamente a destra sui tre puntini vai su opzioni avanzate per fare così delle modifiche sul gioco attraverso le applicazioni installate qua sopra sul reset direttamente la reimpostazione del gioco puoi riparare il gioco interromperlo oppure direttamente disinstallare il gioco e reinstallarlo sempre su xbox qua invece il ripristino quindi ripristini tutto tutto quello che c'è nell'applicazione è nell'applicazione dell' xbox e come passaggio finale disinstalla o lo disinstalli e lo reinstalli e provi così ad avviare il gioco per vedere se si avvia oppure no quindi se non dovesse funzionare passiamo direttamente una volta fatto puoi andare direttamente su xbox quindi in questo caso vai direttamente su xbox clicca direttamente sul tuo profilo e vai sul supporto e qua puoi fare un ripristino e usare lo strumento di ripristino della xbox support quindi vai su strumento di ripristino e facciamo così avvia il ripristino così facendo farà una diagnostica del sistema del game bar farà anche un ripristino sulla esperienza xbox e su tutti i servizi una volta fatto puoi chiudere così xbox chiudi definitivamente l'applicazione e ora passiamo direttamente al powershell in questo caso vai sul powershell windows powershell tasto destro sopra esegui come amministratore una volta fatto in descrizione ho lasciato così degli script da aggiungere sul powershell iniziamo prima con il primo script eccolo qua fai copia e lo inserisci qua sopra e fa invio una volta fatto quello che ti resta da fare è aggiungere così il secondo script mi raccomando prima di premere invio sul secondo script assicurati di chiudere definitivamente xbox app e poi qua fai invio avanzamento così della distribuzione del percorso file e basta non ti resta che aspettare una volta visualizzate così tutte le attività sul nostro computer tu lascialo fare e una volta fatto ci vuole anche un bel po di tempo un paio di minuti una volta fatto entriamo di nuovo sul powershell esegui come amministratore e aggiungiamo gli altri comandi per ottenere così il servizio dell' xbox quindi facciamo direttamente una copia e lo inseriamo qua se in caso avete problemi direttamente con questo comando è possibile risolvere il problema attraverso questo qua sempre in descrizione vi ho lasciato tutto facciamo copia e lo inseriamo qua una volta fatto inserisci il secondo comando ed eccolo qua otteniamo così i servizi di gioco sull' xbox servizi di gioco e installiamo così il servizio in caso manchi qualche file oppure c'è qualche file danneggiato nell'applicazione dell' xbox e nel gioco quindi grazie a tutta questa procedura noi possiamo ripristinare e impostare così i file nella sua applicazione e risolviamo il problema poi una volta fatto non ci resta che andare su applicazioni le nostre applicazioni installate eccole qua cerchi qua sopra xbox tre puntini opzioni avanzate scendi fino a giù fino a trovare interrompi così il processo lo puoi interrompere qua sopra oppure tasso destro su gestione attività lo fai qua sopra vedi se c'è xbox qua dentro tasso destro sopra termine attività oppure fai direttamente uno ripristino oppure disinstalla e reinstalla così l'applicazione su microsoft store quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao